Benvenuti nel nostro canale. Oggi vi portiamo delle anticipazioni piccanti direttamente dagli Stati Uniti sulla sop'opera Beautiful, che promettono di scuotere il mondo dei Forrester e dei Logan. Preparatevi, perché la storia sta per prendere una svolta decisamente inaspettata. Prima di iniziare però vi chiediamo per favore di iscrivervi al canale, di lasciare un like, per supportarci e permetterci di portarvi altri video come questo, di abbonarvi al canale. E ora passiamo al video. Thomas ha deciso di riavere suo figlio Douglas al suo fianco, strappandolo a Hope, che, nonostante la sua opposizione, non può fare altro che assistere impotente alla partenza del piccolo. Thomas e Douglas si trasferiranno a vivere nella grande casa di Eric, che ha accolto con entusiasmo l'idea di vivere insieme al nipote. L'atmosfera in casa Forrester è elettrizzata anche dall'arrivo di Donna, la compagna di Eric, con la quale ha superato numerose difficoltà per essere insieme. Eric ha fatto enormi sacrifici per Donna, incluso il complicato divorzio da Quinn per darle un'identità ufficiale. Tuttavia, mentre la casa sembra riempirsi di nuovi inizi e speranze, si profila all'orizzonte uno scandalo che potrebbe dividere le famiglie Forrester e Logan. Thomas e Donna potrebbero iniziare una relazione segreta. Vivere sotto lo stesso tetto sembra aver scatenato una passione incontrollabile tra i due, promettendo di innescare un vero e proprio conflitto familiare. Questo tradimento non solo ferirà profondamente Eric, ma metterà anche Thomas in una posizione svantaggiosa. Dopo aver vinto la custodia di Douglas sull'argomento di essere il padre biologico, Thomas si trova ora in una situazione delicata. La sua relazione con Donna, sua matrigna, potrebbe fornire a Hop le armi per una controffensiva legale, mettendo a rischio tutto ciò che Thomas ha guadagnato. Inoltre, se la storia venisse a galla, potrebbe anche danneggiare l'immagine di Taylor, la madre di Thomas, e complicare ulteriormente le dinamiche familiari. Thomas, che ha lavorato duramente per rifarsi una reputazione dopo l'asportazione di un tumore maligno e smettere di essere il guastafeste di un tempo, potrebbe vedere tutti i suoi sforzi andare in fumo. Il potenziale scandalo segna un punto di svolta drammatico per Beautiful. Thomas, che cercava di riconquistare la fiducia di tutti, si trova ora in una posizione estremamente difficile. La sua nuova relazione con Donna non solo minaccia la sua riconciliazione con la famiglia e i fan, ma potrebbe anche distruggere le fondamentali alleanze familiari che hanno tenuto insieme i Forrester e i Logan per anni. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa intricata trama. Beautiful non ha mai paura di esplorare le complessità dei legami familiari e le conseguenze delle scelte guidate dalla passione. Grazie per essere stati con noi oggi e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere nessuna delle nostre future analisi su Beautiful.